Salve i popoli youtube, sono io Alberto Neogeo e oggi sono qui per fare un video un po' diverso dal solito non so se lo sapete ma ultimamente è scoppiato un piccolo scandalo in quello che è youtube America, youtube statunitense che coinvolge quello che si chiama, un sito che si chiama Channel Awesome ho deciso di fare un video su questa cosa perché Channel Awesome è il personaggio a cui è principalmente legato questo video quindi Doug Walker che è conosciuto nell'ambiente come Dostalgia Critic è un personaggio, è una realtà con cui io sono sempre stato molto 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 legato insomma in un certo senso è una realtà che io ho sempre seguito e sempre apprezzato in un certo senso quindi il fatto che sia saltato fuori una sorta di scandalo, abbastanza grave anche in alcuni punti mi ha un po' colpito e non volevo e mi ha spinto anche a provare a fare questa sorta di video nel quale provo a narrarvi di questo scandalo, speriamo in maniera non troppo confusionaria e anche di dirvi un po' le mie impressioni è una cosa che ho sentito il bisogno in un certo senso di fare allora partiamo dalle basi Nostalgia Critic, Channel Awesome Channel Awesome è un sito come dicevo che ha sempre aggregato anzi una volta era un sito che adesso si chiama Channel Awesome una volta si chiama That Guy With The Glasses ed era un sito creato da appunto Doug Walker che è questa sorta di youtuber all'inizio non era proprio un youtuber però adesso lo è che ha sempre fatto insomma ha creato dei vari personaggi col quale fare video diciamo spiritosi e poi si è inventato questo personaggio che si chiama Nostalgia Critic col quale ha sempre fatto recensioni di vecchi film brutti e via dicendo questo sito però non si limitava solo a pubblicare i video di questo Nostalgia Critic di Doug Walker ma ha iniziato anche ad accorpare video di diversi altri youtuber o comunque di content creator diciamo di internet reviewer c'è matrimi come volete insomma di altre persone che facevano video recensioni e cose di questo genere e quindi negli anni questo sito che all'inizio si chiama That Guy With The Glasses e poi a un certo punto è cambiato e adesso si chiama Channel Awesome è cresciuto, è espanso e è diventato uno dei punti di riferimento in un certo senso di quello che era YouTube America o comunque di chiunque facesse video recensioni online e in una sorta in maniera molto lontana anche con me diciamo anche se io non sono uno molto prolifico da questo punto di vista però insomma ho deciso anche di aprire questo canale YouTube e fare tutto questo tipo di creare questi contenuti anche grazie a questo tipo di realtà che vedevo fare negli Stati Uniti purtroppo la settimana scorsa è stato fuori diciamo un documento che mi sembra si chiami Channel Awesome Not So Awesome o qualcosa del genere comunque lo trovate anche facilmente adesso googolando in giro ed è un documento nel quale vengono raccolte tutte le testimonianze di un po' tutti o comunque di un sacco di content creator internet reviewer di YouTuber che hanno lavorato per Channel Awesome e questo reso conto ci sono un sacco di episodi diciamo molto spiacevoli che appunto riguardano principalmente due figure una è appunto Nostalgia Critic stesso quindi Doug Walker l'altra che poi è quella più presente è quella di Mike Michaud Mike Michaud è stato o è ancora credo il CEO quindi il diciamo il presidente in un certo senso comunque quello che ha sempre gestito il sito The Capitory Classes e Channel Awesome si tratta di allora in questo documento come dicevo ci sono elencati e raccolte tutte queste testimonianze che vanno sia dalle cose meno gravi quindi atteggiamenti diciamo un pochettino poco consoni e poco gradevoli di queste persone verso appunto gli stessi YouTuber e collaboratori a cose anche abbastanza gravi del quale adesso poi tenterò di raccontarvene qualcuno anche molto gravi alle volte e quindi questo è il documento ci sono queste cose e come dicevo il personaggio che viene più preso di mira insomma in questo report di fatti spiacevoli è appunto questo Mike Michaud Mike Michaud che era il CEO da quello che salta fuori in questo documento era una sorta di diciamo di dittatore in un certo senso di questo video una persona molto sgradevole dal punto di vista personale quindi una persona molto difficile con cui è molto difficile avere un rapporto molto autoritario molto anche ingiusto nel decidere le cose una persona che è anche un po' pigra nel muoversi ma anche molto irrispettosa del lavoro altrui molto pretenziosa molto appunto dittatoriale in un certo senso che imponeva delle regole assurde a tutti i collaboratori che dovevano lavorare con loro li ricattava, li minacciava aveva degli atteggiamenti anche molto molto aggressivi sia psicologicamente soprattutto anzi in realtà soprattutto psicologicamente e soprattutto verso a quelli che erano soggetti femminili quindi tutte le donne, le ragazze che lavoravano che collaboravano erano quelle trattate peggio in un certo senso da questo Mike Michaud anche se anche comunque gli uomini sono trattati trattati male ma però comunque contro si registra che contro nei confronti di ragazze quindi di donne questo Mike Michaud abbia atteggiamenti ancora più diciamo gravi ancora più violenti verbalmente insomma psicologicamente ancora più violenti come dicevo gli episodi ce ne sono tantissimi è difficile per me darvi un ritratto diciamo esaustivo di tutto diciamo che si va sia dall'atteggiamento come dicevo prima poco piacevole nel trattare, nel parlare ma anche a cose abbastanza gravi come appunto il limitare la pubblicità dei video insomma i youtuber come sapete campano di sponsorizzazioni e insomma il Michaud si è messo a fare a mettere molti paletti molte restrizioni per impedire ai ragazzi di usare delle sponsorizzazioni ha impedito anche Michaud ha anche impedito di pubblicizzare di usare il Patreon a parte che non sapeva ha scoperto molto tardi cosa fosse il Patreon cioè una cosa che non capiva che cosa fosse quando è uscito però quando praticamente qualcuno ha iniziato a voler usare il Patreon tra il quale appunto Obscurus Lupa che è una delle youtuber che poi guardavo guardavo spesso anch'io questo Mike Michaud ha impedito a lei di usarlo ha dato questa direttiva che impediva di usare di sponsorizzare il Patreon al di fuori di quello che potevano essere i video limitando molto i guadagni delle persone diciamo in un certo senso che lavoravano per il sito salvo poi concederlo a qualcun altro quindi avere anche un atteggiamento diciamo così dispari in questo senso ma poi le cose non si fermano qui c'è molte pretese pretese di che i content creator lavorassero gratis che i video fossero un certo numero che fossero fatti in una certa maniera salvo poi non guardarli neanche i video nel senso avere poco anche rispetto per il lavoro che facevano però pretendere tanto quindi è il classico atteggiamento di chi insomma vuole vuole avere un controllo assoluto sulle persone sul lavoro delle altre sul lavoro appunto dei collaboratori senza però avere assolutamente nessun rispetto per loro di episodi ce ne sono veramente tanti come dicevo si arriva anche a cose abbastanza molto gravi a parte anche l'aver lasciato stare delle accuse di moleste sessuali che sono state fatte su uno dei vecchi collaboratori uno dei co-sio in un certo senso non saprei come chiamarlo insomma co-direttori del sito che poi è stato licenziato non a causa di queste di queste di queste accuse di molestia ma insomma anche il fatto di insomma ignorarle in questo senso non è stata una cosa molto giusta da fare quindi a parte si parla di queste cose qui quindi a parte questo ci sono appunto anche atteggiamenti stati molto gravi come appunto diciamo sfruttare il lavoro delle persone non pagare ad esempio tutto il lavoro che è stato fatto anche per quanto riguarda i film di celebrazione dell'anniversario praticamente Cianosso ogni anno faceva una sorta di film nel quale si riunivano tutti gli youtuber che partecipavano al sito si riunivano a Chicago giravano insomma queste scene di questo film e poi questo film veniva trasmesso pubblicato a puntate sul sito ne sono state fatti almeno tre di questi film poi con un vecchio crossover all'inizio però insomma questi film sono stati fatti tre e molti degli episodi che vengono citati nel documento si riferiscono anche appunto a tutta la lavorazione di questi film nel quale i ragazzi sono stati veramente trattati malissimo oltre che sfottare il loro lavoro quindi non essere pagati alcuni di loro hanno anche quelli che poi si sono spesi anche di più ad esempio uno di loro che è Ferios uno youtuber insomma abbastanza famoso che ha contribuito a fare gli effetti speciali di questi film è stato oltre a non essere stato pagato è stato anche trattato male insomma anche sfottato fino all'inverosimile cose di questo genere la lista di queste cose è veramente tanta uno degli effetti effetti più gravi forse il più grave in assoluto di atteggiamenti di comportamenti di Michael Michaud è sicuramente stato quello che riguardava una ex collaboratrice che era che si chiamava si chiama Holly Brown se ricordo male Holly Brown Holly Brown si è occupata per un certo periodo di tempo delle risorse umane del sito Channel Awesome però ha avuto ovviamente dissapori e trattamenti veramente deprecabili da parte di Michaud che alla fine poi l'ha licenziata costringendole a firmare un contratto nel quale era costretta a non lavorare nell'ambito nel suo ambito professionale per almeno altri tre anni questo è il tipico atteggiamento di queste persone come dicevo prima totalitarie che vogliono il controllo su tutto e hanno poco rispetto a delle altre persone ed è una cosa gravissima anche perché questa povera Holly Brown in questo documento dichiara che la sua vita è stata praticamente quasi rovinata da questa cosa perché impedirle di lavorare nell'ambito nel suo ambito per almeno tre anni è una cosa gravissima sia per la sua carriera ma anche per la sua vita personale in più Michaud come dicevo ha avuto anche atteggiamenti ma anche tossici nei confronti delle altre persone questo tipo di personalità portano poi le persone anche a odiarsi fra di loro metteva anche zizzania fra gli stessi youtuber fra loro e atteggiamenti veramente come si dice appunto tossici che alle volte anche molto poco professionali che hanno diciamo distrutto anche il sito anche perché poi dopo le scelte che sono fatte anche a livello di produzione del punto del sito sono state molto scellerate ad esempio si è fatto una campagna di indiegogo per finanziare una serie di una sorta di show di quick show un finto quick show un quick show satirico non si capiva bene cosa fosse che nessuno del sito voleva fare che però malcomi show ha imposto in un certo senso ed è andato malissimo ovviamente è stato prodotto male gestito ancora peggio fatto di malavoglia praticamente da chiunque non visto da nessuno infatti io manco io penso di averla visto qualche uno stralcio una volta poi non averlo mai seguito perché insomma era una cosa veramente orrenda e quindi a parte queste altre scelte scellerate che hanno anche contribuito alla decadenza del sito oltre che all'abbandono progressivo di tutte le personalità come dicevo se volete una 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 panoramica molto esaustiva insomma guardare molto cioè guardare una panoramica molto esaustiva di questi di questi di questi facts di questi episodi basta che cercate il documento ve lo leggiate prendete un po' di tempo perché è un po' lungo e leggiate tutto oltre a Michael Michaud come dicevo però ci sono alcune cose che coinvolgono anche il nostro amico Doug Walker nostalgia critica e queste sono le cose che mi hanno fatto più diciamo anche beh mi ha fatto molto dispiacere anche di leggere di Michael Michaud però ovviamente la cosa che mi ha colpito di più sono stati gli atteggiamenti di Doug Walker allora Doug Walker la figura che viene fuori da questo documento di Doug Walker è quella di un personaggio molto ingenuo o almeno un personaggio che sembra molto ingenuo praticamente Doug Doug viene descritto come una persona che è altamente non professionale la cosa mi ha anche stupito perché pensavo fosse molto più diciamo smart nell'uso di tecnologie però assolutamente completamente fuori ha inadatto usare qualsiasi tipo di tecnologia cosa del tempo che non usciva neanche a prendere un bottone per registrare una conversazione e quindi una persona poco professionale è anche molto diciamo ingenua o finto ingenua per quanto riguarda alcune cose tipo ad esempio che posso dire l'umorismo su cose poco diciamo simpatiche come argomenti poco simpatici come ad esempio le moleste sessuali o lo stupro e via dicendo insomma aveva un atteggiamento diciamo un po' naive un po' ingenuo verso questo tipo di di fatti insomma ha fatto più volte battute infatti anche se poi guardate la sua produzione effettivamente ogni tanto a guardarci bene ogni tanto saltavano fuori queste battute un po' troppo non molto diciamo non molto diciamo politically correct insomma rispetto a argomenti del quale non si dovrebbe ridere troppo come ad esempio appunto maestri sessuali o stupri e quindi un personaggio che faceva un po' l'ognori su queste cose tipo che proponeva alle persone di fare ad esempio delle scene appunto di stupro infatti in uno dell'ultimo film che è stato girato del Baldi Flea c'è una scena che i ragazzi che dovevano girare sono praticamente rifiutati di girarla perché era praticamente una scena di stupro ridicolizzata che non era molto diciamo così imbarazzante da girare però lui in un certo senso l'ha trovato in modo comunque di rimettercela nel suo film e anche una personaggio diciamo anche lui al suo modo un po' totalitario nel senso che anche lui insomma imponeva il suo umorismo ad esempio nei film lo impone molto le sue battute la sua scrittura dava poco spazio ai ragazzi di esprimere l'ororumorismo le loro battute e cose di questo genere in più ci sono stati una serie di episodi anche molto gravi e la cosa che è più stupida in assoluto ad esempio che ho visto qualche stile fa lui che parlava di The Disaster Artist il film su Tommy Wiseau e si stupiva del fatto che Tommy Wiseau quando ha girato The Room trattava malissimo la troupe non dava da bere ai suoi attori alcuni lasciavano che stessero male lasciato che una delle attrici svenisse e lui prendeva in certo senso in giro queste cose in realtà poi vai a leggere in questo documento che lui durante la produzione di Boldy Flea ha fatto le stesse identiche cose di Tommy Wiseau non ha lasciato non lasciava che la gente potesse mangiare o bere sul set imponeva insomma le sue idee era molto totalitario cose faceva ovviamente aveva delle pretese assurde tipo ad esempio durante Suburbian Night si era messo a dirigere anche i passanti come se fossero delle comparse assoldate per per il film e poi ha lasciato anche che una ragazza rimanesse svenuta sul set sempre durante Suburbian Night una ragazza una di loro delle ragazze del sito delle collaboratrici che una scena doveva essere diciamo legata con lo scotch e poi ha lasciato che lei sia rimasta per questa posizione scomoda insomma un po' per molto tempo e al fine è svenuta e lui in un certo senso non se ne ha neanche reso conto e qui diciamo che sembra che dal documento che Doug Walker abbia meno insomma meno non abbia gli stessi atteggiamenti di Mike Michaud quindi abbia un atteggiamento un pochettino meno in realtà l'atteggiamento di Doug Walker è il classico atteggiamento di connivenza nel senso che di sapere che c'è qualcuno che sta perpetrando cose che sta facendo un atteggiamento poco poco consono anche diciamo anche illegale in alcune volte ingiusto verso le altre persone però lasciarlo andare quindi lui fa un po' fa un po' il finto tonto in un certo senso io almeno da quello che ho visto mi sembra mi dà l'idea di una persona che sa ma fa finta di non sapere poi la sa non lo so nel senso che io poi non li conosco di persona questi personaggi non li conosco di persona dico quello che secondo la mia esperienza è quello che di quello che ho letto quello che ho visto quello che insomma la mia la mia valutazione su questa persona è questa qui anche se in realtà poi non ne sono sicuro al cento per cento però mi dà l'idea che Doug sia una personalità appunto che giochi un po' sia ingenuo ma giochi anche un po' su questa ingenuità cioè che faccia finta un po' di di non sapere le cose anche per poi a fine fare quello che vuole lui comunque lasciar fare quindi non so lasciar fare alle persone queste cose quindi non so fino a che punto la responsabilità di tutto questo casino sia sia solo di Mike Michaud o anche di Doug Wall in un certo senso io tenderei a dare la responsabilità a tutti e due perché comunque Doug Wall pur essendo pur avendo atteggiamenti magari un pochino meno gravi ma insomma gravi anche lì di su alcune meno gravi insomma su sui suoi collaboratori è comunque imperdonabile che abbia avuto questo atteggiamento di convivenza quindi direi che io non assolvo quasi per niente Doug da queste cose pur riconoscendo in lui una figura diciamo artistica chiamiamola così insomma artistica comunque dal punto di vista diciamo più non dico professionale ma insomma appunto dal punto di vista artistico diciamo proprio così dal punto di vista del genio delle cose una assoluta cioè li riconosco un'assoluta positività da questo punto di vista nel senso ho sempre apprezzato i suoi video ho sempre ritenuto che lui fosse un genio anche se alcune battute erano un po' sono sempre state un po' così li li tra il politically correct e il no e il non politically correct comunque ho sempre avuto un'ottima opinione credo di continuare ad averla un'ottima opinione un'ottima opinione del suo operato dal punto di vista diciamo esclusivamente artistico mi scade come personaggio come persona e quindi d'ora in poi non credo che smetterò almeno non subito di guardare i video di nostalgia critic sicuramente avrò un atteggiamento diverso verso di essi e non è perché lo voglio avere ma perché sicuramente mi verrà da pensare a queste cose quando lo vedrò e quindi non so fino a che punto riuscirò ancora a seguire questo questo personaggio questo questo show che mi ha accompagnato per tantissimo tempo al quale mi sono ispirato al quale al quale devo anche apparecchio devo dire e quindi è una cosa che mi fa molto male mi rattrista e non so insomma è sempre molto difficile sono situazioni in cui è difficile avere un'opinione netta in un certo senso perché è vero che tutti questi sono sempre lamentati di non avere abbastanza esposizione dicendo però alla fine quello che ha fatto il lavoro che ha fatto da Walker comunque c'è portato gestito malissimo però c'è stato cioè io comunque loro Obscurus Lupa Cinema Snob Linkara e tutti gli altri insomma anche tutti quelli che hanno scritto lì Mars Girl Mars Girl scusate se li pronuncio male tutte persone alcuni no perché i proletti non sono riuscito a vederli perché erano anche oscurati sono stati oscurati da Michael Michaud quindi purtroppo è così però molti di loro io li ho conosciuti attraverso attraverso questo channel osso quindi grazie le nostre già critic quindi non dico che loro non dovessero spuntare il piatto in cui hanno mangiato perché è assolutamente una cosa assurda loro hanno fatto benissimo a denunciare queste cose forse potevano farlo prima forse dopo chi lo sa chi se ne frega l'importante è che l'abbiano fatto ed è giusto che l'abbiano fatto però c'è anche da dire che comunque qualcosa questo sito l'ha ottenuta in un certo senso una cosa positiva io verso di queste persone non dico che sono affezionato a queste persone in un certo senso dico queste che hanno redatto il documento e sono dalla loro parte in un certo senso se sono dalla loro parte quindi non prendo le parti di Doug per me Doug è colpevole però c'è anche da dire che ha questo personaggio questa persona bisogna riconoscere un certo talento e di aver comunque ottenuto qualcosa che altri non hanno fatto nel bene e nel male poi non lo so quello che è stato fatto è stato fatto quello che verrà fatto in futuro chi lo sa io ancora i video ancora continuano a guardarli non so se continuano a guardarli per sempre ma chi lo sa vedremo vedremo un po' come evolvono le cose spero che di non avervi annoiato con questa cosa spero che voi siete spiati d'accordo potete anche non essere d'accordo con quello che dico io però insomma spero di avervi dato degli spunti di riflessione abbastanza importanti non credo che youtube youtube in italia pochi si stanno occupando di questa cosa ma insomma non è neanche necessario che se ne occupino però beh io ho sentito il bisogno di dirlo e di tirar fuori queste cose qui io vi ringrazio di essere stati qua vi saluto alla prossima volta i prossimi video salteranno fuori non vi preoccupate vi saluta anche ecco The Dolphin qui c'è ecco Junior e niente sono caduti tutti sono morti va bene grazie e ci vediamo la prossima volta grazie